bello a tutti ragazzi sono andrenottono e benvenuti in questo nuovissimo video ci troviamo sulla magicraft io faccio un piccolo backup devo fare della cartella lo devo fare cazzo faccio subito faccio subito faccio subito un attimo un attimo una cosa veloce una cosa velocissima se trovo la cartella eccola qui poi stanze non è qua un attimo ci metto più del previsto ma scherzavo perché sono qua ok cartella a distanza minecraft save e facciamo subito il backup hey hey ok copia tasto destro incolla fatto 71 megabyte pesa il mondo minchie poco po incredibile ok play possiamo giocare allora off camera sono andato nel nether e ho fatto un tunnel che porta a una fortezza finalmente se riesco a ritrovare il tunnel siamo a posto perché non mi ricordo dove l'ho fatto forse ho lasciato un forse aspetta aspettate avevo trovato una forte eccolo qua tunnel t eccomi qua questo è il piccolo grande tunnel perché non c'è della cosa qua ok lo so strano stranissimo credo che si no sto andando al contrario io che sono qui qua c'era del cobalto e l'ho lasciato bene 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 andiamo fermiamo sopra io devo fare per forza il tantesimo di volo mi serve troppo come vedete qua ho allargato un bel po' le cose e sto anche laggando un pochino perché è che sto laggando vedo troppi colori mi sembra e sembra a me che la comando sto laggando devo convincermi che non sto laggando ok ho forza un bel po' di oh cazzo 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 non facciamo queste cose brutte mi sono messi in finita sull'arco come vedete neanche punch mi pare ma siamo quello scheletro la che rompe la micchia e anche quei blades che non riesco a prendere naturalmente però ora lo prendo boom boom bene cazzo fa ah ho trovato una testa di Wither figo ok giriamoci un po' qua porco giuda muori perché madonna sono impiedito oggi ok muoio 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 che non muoio scusate se se i gosh boner di blaze quello lo prenderò con la dolly io mi ricordo di avere visto una cesta ma dove? da qui mi pare forse mi dovevo lasciare quei boni della cesta ma mi sono dimenticato di lasciare eccola qua forse è buono dai buttiamo un paio di merda ah ma c'ho il backpack io eh eh vabbè adesso sono attrezzatissimo io io mi ricordo di avere visto non soltanto questi chest forse è questa sì è questa eccola qua ho trovato questi robbi qua non so come mai è strano forse comunque questi permettono di fare la farm di Wither Skeletor con i semi un po' di roba OP molto OP emoziamo sti guider bene oddio no quel pipistrello è brutto fa male anche se lo prendo sono incredibilmente pro no non l'ho preso un uccello eh il pipistrello eh che sono cattivo io eh qua mi devo portare mi metto i waypoint eh c'è tasto destro blu ok via oh tu fai male anche troppo per i miei busti non moriamo ok sono troppo a provarcelo oggi porco giuda ancora uno ma muoricete ancora ma sparate la minchia ok io sono sono sempre dell'opinione che oggi morirò morirò non si può se no muo 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 non so come si dice scusate per la voce di nuovo perché sono rauco anche un po' troppo comunque dai torniamo al portalozzo che è qua bene 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 benissimo siamo a siamo a vaccallo siamo a vaccallo e ci possiamo fare la farm di Wither Skeletor e io direi di farla però 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 dove 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 un secchio un secchio un secchio non sono qua i secchi non sono qua non qua non sono qua non sono neanche qua ma sono qua ecco qua dove sono Ah, qua ho messo a fare del glass Ecco, uno, due, tre Uno, mi sembra che è perfetto Mettiamo la crafting table qua Ok, 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 ok Prendiamo una braccia d'acqua E facciamoci questa benedetta farm Ti prego, mi riesce l'acqua Mi chiedo, sto morendo da un mal di cola Scusate di nuovo Mi dispiace troppo Farvi sentire I video con la voce un po' bassa E' rauca Però questo E' in mezzo ai coglioni E tu te ne vai Perché non scava la drezza Ah, ma così Cosa di scavo? Ok Bene, 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 bene Mettiamo il secchiello d'acqua E ariamo la terra Facciamo così e poi andiamo questo qua davanti e poi mettiamo questo e questo e speriamo che cresca per farlo crescere più velocemente possiamo farci anche un'altra cosa che se trovo il legno è questo qua vediamo se si fa così si si fa così ok la stone ce l'ho potevo prenderla da mano minchia mi ricordo il crafting a memoria no non ci credo solo in peaceful si può fare e poi l'altro come si fa? cioè aspetta ah col bomb in zzzzz voilà eccolo qua credo che si siano sdroppati per la luce in effetti c'è poca luce qua se vedo f7 già c'è pochissima luce vediamo cattesimo di luce ce lo dovrei avere si ok ok ora mettiamo questi qua questo qua così no prima devo fare un'altra cosa che parla ma perché non si idrata la terra madonna è la quarta volta che lo caccio ma sono ricoglionito ok ora facciamo tasto destro costo questo qua nel documentario è così vedete come crescono velocemente? beh non tanto velocemente però crescono ho ok Ok, bene, 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 facciamo crescere ancora. Cioè, magari ci dà qualche assenza. Così tanto per farvi vedere il craft, se no ve li faccio vedere tramite la mese. Ok. Qua stavo cercando se c'erano le ali della extra utilities, ma non li hanno messe ancora... C'era Core Furn Hunter, ma era 1.6, non lo sapevo io. Comunque, comunque, comunque. Allora, come si... che cazzo dovevo cercare? hoyer 7. Wither, 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 Wither Wither Essence eccolo qua eccolo qua 8 di queste o 9 di queste ci danno rispettivamente una Wither Skeletor Skull o un Bottle of Enchanting che sarebbero tra i leader di credo ma vabbè dai se magari questi cosi si muovono a crescere se no ci aggiungo un altro mod per farli crescere oppure, oppure, oppure Wither, Wither, Wither non c'è quello Reinforced ancora no che brutto c'è la Kikoku non c'è la Kikoku neanche Sigil c'è quello Stable, si ok, dai se no dobbiamo farci così come si chiamano Fertilizer eccolo qua che forse possiamo fare Natura Essence ce la dobbiamo dare forse no, abbiamo l'Essence Dust che serve a fare Infused Core no, servono i 6 mini per farlo allora, i 6 mini ce li mi ricordo di averli trovati ma dove li ho messi? brutta roba mmm, già, bruttissima roba vediamo, 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 eccoli qua i grandi semini i 6 mini, i grandi, i grandi, i grandi semini ok, cresci, cresci, cresci bastardo cresci, cresci, vi faccio vedere le particelle io, settings, animation eccole qua ecco perché non vi volevo fare, non metto le particelle tipo, sui luci che io, incredibile che ho usato dalla mia armatura vabbè no, non vogliono crescere boh boh, non so motivo, perché non vogliono crescere però dai intanto qua come ho messo i minerali beh, siamo vestiti bellissimo di minerali che cosa mi serviva lo stile per fare il piccone boh ovvero che potrei anche fare ora questo lo devo cacciare ok cacciamo le particelle video settings animation no on questo minimo scusate un botto scusate, scusate, scusate allora iniziamo dovremo avere i cost ok, bene figo si può fare in nether devo fare un botto di cost ok ok, altre cose le possiamo fare il swag swag yolo yolo motherfuck facciamoci anche il turro podcast anzi non me lo faccio in netherrack il netherrack ok, buttiamo a sciogliere sto coso che è l'oro il coso è l'oro ok, bene per ora mettiamo le ad e la sword blade ok, bene aspettiamo che si sciolga intanto vedo una cosa io mancano 143 minuti per uploadare un video bene questo video lo vedrete il 30 novembre questo video lo sto facendo il 29 però lo vedrete verso il 2 o 3 credo dicembre se non dopo il 13 perché il 13 c'è il compleanno mio yeee che bello ok c'è un serie che non basta ok Quanto cazzo manca ancora? Te muovi? Bene, adesso mettiamo questo. Questo. Ne mettiamo a sciogliere lo steam. Che dovrebbero bastare due, forse. E adesso ci facciamo finalmente il piccone popopro, popopro, popopro. Hmm, dovremmo iniziare la towncraft anche. Dovremmo. Wound. Ok, dovrebbe essere facile da fare. Sì, la posso anche fare ora. Ma non mi va. Anzi, lo faccio però. Tanto è cazzato. Vabbè, vabbè. Spada fregnita. Uno e due. E per una... No, non faccio un coso intero in ferro. Va bene. Va bene. Bastardo. E' sciolto lo steel. Molten steel. Due ingotti. Ok. Lord blade. Pig cakes. E siamo a vocarlo. Il piccone... La spada è praticamente fatta. E anche il piccone. Allora, primo piccone. Facciamo così. No, ci manca un pezzo. Facciamo in carta sto pezzo. Perché ci aggiunge un modifier in più. Ok. Facciamo qua. Spada fregnita. Non si può fare. Facciamo l'econo. Tac. Mi ero bugato. Cioè, mi ero bugato. Vabbè. Ok. Adesso possiamo strutturire il piccone. Tam. Tam. No. Tam. 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 Adesso anche la spada. Tac. E. Tac. Così. E fa sette di danno. Questa fa sette. Perfetto. Possiamo aumentare il danno con Nethercords. Che adesso farò? Il mining level di sto piccone non lo so. Però dovrebbe essere abbastanza buono. Nethercords ce ne devo avere per forza. Qua no? Qua no? Qua no? Qua no? Qua? Sì. Mettiamo subito il modifier di in più. Che si fa così. Questo qua. E questo qua. Oh. E così si continua qua fino a che non faccio un botto di danno che per me sono 20 puoi. Cioè 20 di attacco. Poi ce ne abbiamo 9. Ci mancano soltanto 11. Dai. Dai che ce la facciamo. 10 dai. Metà vita. 10 di attacco qua. Sì. 5 cuori e mezzo. Buono dai. Beh. Non so quanti minuti siamo. Adesso c'è che controllo. Siamo a 24 minuti già. Wow. Quanto passa veloce il tempo. Già. Comunque. con l'enchant che metterò alla spada ora. Che sono venuto a prendere il libro qua io. Non sono venuto a prendere la cosa io. Cioè. Cioè. Dove cazzo sono i libri? Mi serve un libro. 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 Dove sono i libri? I libri sono qua. I libri sono qua. Eccoli qui. Che posto. cerchiamo. Cerchiamo. Sol Bond. Sol Bond. Sol Bond. Sol Bond. Sol Bond. L'avevo visto. Dove sei? Sol Bond. Per cazzo. Eccolo qua. Sol Bond. Sol Bond. E qui redotto. Perché? 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 La domenica mi la si torna. Te ne vai a vedere la partita. Basta. Tra me sto cazzo di Sol Bond. Eccolo qua. Sol Bond. Benchant. Adesso. Ci abbiamo un Envil? No. Facciamoci l'Envil. Sì. E adesso se sono... Sì. Non è come la 1. Punto. Sette. Punto. Dieci. Sono letteralmente inculato. E mi devo citare l'Enchant. Non è che devo. Voglio citarvi l'Enchant. Su questa spada. Perché mi serve. Un bot. Tre. Ok. Ta ta ta. Speriamo che funzioni. Ta ta ta. Tac. Boom. E' il shot. Envil. Fatta. Ora mettevo questo. E questo. E funziona. Per fortuna. Perfetto. 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 Sborro. Sborro arcobaleni. Che basta. Eh. Io dovrei mangiare. Non c'ho niente da mangiare. Ma vabbè. Mettiamo questi qua. Sì sì. Così ci mette. Popopo. Così. E non va qua ma va sulla netheract. E lo sapevo io. Ok. Mielmo ne abbiamo del cibo. Avete visto che ve l'ho chiesto piccone. E eccoci qua. Falta. Bene bene bene. Possiamo gli affiarli anche solo. E funziona eh. Oh mio dio che bello. Comunque. Per questo video è tutto. Ciao e a presto. Io devo andare a stoppare da OBS. Dalla finestra di OBS. Quindi vedrete OBS. OBS. Attenzione ragazzi. Clip extra bonus di XDXDXD111111 ProSniper. Perché ho trovato tre teste di vider. Da tre ore che sono. Qua nella fortezza. Mi ero rifugiato di nuovo nel tunnel. Perché stavo per muadire. Comunque. Sono venuto per trovare. Ok. Ok. che meno male che c'è questo in chat per trovare come stavo dicendo la soul send perchè mi serve per fare il builder e ammazziamolo direttamente qua il builder micchia che brutta la soul send micchia che brutta mamma mia che sei brutta mamma mia che sei brutta ok iniziamo a fare il buco ok iniziamo a fare il buco per spawnare il luider e lo faccio così perchè così non mi attacca a meno che non ci sia qualche cheat bug facciamolo subito dai boom 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 se vola siamo inculati ok non vola possiamo ammazzarlo non vola è attaccato ammazziamolo con l'arco sto morello io sto moredo io ok gg ok, andiamo al portale. Sono troppo cazzato. Sono troppo cazzato. Sono troppo cazzato. Portale, 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 portale. Portale, portale. Casa, 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 casa. Troppo bello, troppo bello. Sono riperato la spada tre volte per chilenare questo with. Finalmente ce l'ho fatta, finalmente ce l'ho fatta. Ora potremo fare anche l'enchant. Che cosa serve, che cosa serve per iniziare? Blank rune ha un vinte un dust. Blank rune ha un vinte un dust. La un ce l'ho. La runa ce l'avevo, che l'avevo vista però la posso fare. Non ce l'ho. La bomba la faccio. Blank rune ha un vinte un dust. Il vinte un. Noz vinte un. Che dovrei avere già ogni quantità industriale. Ah, non è vero. La mimichita, vediamo se lo posso fare. No, non si fa. Eh, andiamo a cuocerlo veloce 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 veloce. Dobbiamo andare anche alla pozza tenere dell'Ars Magica. Ma vabbè 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 dai, facciamo tutto oggi. Troppo bello, sono troppo pesato dopo pesato. Eh, questo è anche il bonus che inizierò alla fine del video. Eh, mettiamo a cuocerlo e andiamo a prendere la cosa. Pozza Ars Magica. Dove è la pozza dell'Ars? Eccola qua. Non c'è il secchiello. C'è il secchiello. Mori. Slash, no, Slashback. Troppo abituato con i... Robi. Toh. Ver. M. M. Ti. Toh. Bene, 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 bene. Metti un dust, ce l'abbiamo. La Blankron la fa fa, la fa fa mo mo. La fa fa mo ora. Che si fa così se non sbaglio. Ecco qua. Blankron. Aum, vetti un dust. Che cazzo è sta roba. Lesser focus. Ti preghi dimmi che fa... Ti preghi. Ti prego dimmi che è facile da fare. Lesser... Eccolo qua. Sì, è una cazzata da fare. Non è male male. Minchia, se ho sprecato tutto l'oro. Se ho sprecato l'oro le bestemmie. No, ce l'ho ancora. Bene, 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 bene. Ok, ok, ok. Gloss ce l'ho. Possiamo farselo. Ti prego dimmi che funziona sto class. Se è noto a mazzo. Non funziona sto class che palle. Allora, vediamo se c'è il class normale. Ti prego, ti prego. Ti subbligo. Ti subbligo, ti subbligo. Ti subbligo con il vero. Aspetta, minchia ho perso. Wow. Ma facciamolo qua. Bim, bim, bam. Natural Essence che adesso faremo. Devo fare le particelle, vediamo se funziona. No, 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 no. Io settings, non mi sono. Allora. Sì, funziona. Ti prego, dimmi che... Perché lo devo sincronizzare. Questo. Con questo. Questo qua. Questo. Con questo. Ok, funziona. Una blank rune che c'ho. Una white rune, vabbè. La nether star che ho fatto ora. Una ghast ear che dovrei avere. Da qualche parte. Sennò ce la procuriamo subito. L'avevo collezionata la castillo, mi ricordo. Dai. Vabbè, si taglia qua naturalmente. Eccola qua. Sennò qua. Prima uniamo il sito del Porsche per il che abbiamo. Bene. Bene, 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 bene. García, abbiamo il incantesimo più figo del mondo. Guarda Volo 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 Posso volare Posso volare Posso volare Posso volare E vabbè comunque Comunque ragazzi per questo video Ora sì è tutto Ci vediamo la prossima qualcosa Ciao Ciao